amici di parma channel benvenuti come tutti i sabati qui a collecchio in diretta stavolta seguiamo ma ha ragione perché hanno stravinto il campionato i giovanissimi fascia b del parma il derby contro la reggiana ragazzi nati nel 2001 quindi adolescenti punizione proprio per la squadra in maglia granata ben battuta da muratai la bella parata in bello stile da parte di corvi al terzo minuto di gioco braizzi zona tiro 20 metri dialoga con giabua bella la sponda di mattioli carica un gran sinistro a izzi il corpo della difesa la reggiana che vale sul pallone granelli che mette in mezzo un traversone tuttanto che malvagio per mattioli che la lascia sfilare mattioli arriva priva sul pallone rispetto a geroli palla però vicino la bandiera ancora mattioli fa saltare secco un uomo ancora mattioli entusiasmante questa giocata di mattioli gran palladetto per a izzi si coordina rete e c'è il gol del parma 1 a 0 per i ragazzi di melli 1 a 0 parmi in vantaggio bella azione corale della squadra di melli 1 a 0 baci poi alla tribuna tronelli 1 a 0 parma coruzzi parte muro a giro pericolosa palla che sfila recupera bene palla govoni carlucci 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 entra in aria carlucci carlucci gran parata del portiere della reggiana mo carlucci per mattioli arriva giabua come un treno sulla sinistra poi metto c'è bastian govoni io gliela darei gliela da proprio govoni bastian govoni la gran parata ancora di un super bonini ma ancora con botturi riproponiamo l'azione carlucci carlucci punta un uomo ancora dietro per botturi da qui può anche calciare cerca un esterno destro la palla rimbalzava bene mattioli mattioli eccolo qua mattioli a izzi a izzi partito in posizione sospetta izzi a izzi a izzi a izzi scarta il portiere ancora izzi a izzi dovrebbe darla izzi cerca un altro dribbling stavolta esagera sta a buon piede petronelli a izzi ancora per petronelli grande azione petronelli vuole la doppietta petronelli ancora la parata del portiere della reggiana parma palla morbida in mezzo buona colpo di testa pallagresta lì e salva addirittura sulla riga sul tentativo di botturi poi ancora le porati mischiore furibondo si salva in qualche modo la reggiana all'ottavo arrivarci giabua prima di lui jonathan silotta ancora in mezzo al campo ancora jonathan grande giocata attenzione jonathan sente in aria lucci calcio di rigore calcio di rigore per la reggiana giova jonathan con il destro jonathan palo palo di jonathan si è accesa l'errore dal dischetto di jonathan ancora giabua è andato mattioli giabua gran palla per a izzi a izzi a izzi fuori ma che partita stiamo vedendo straordinaria qui a collecchio lunga e profonda cercare ancora jonathan contro le porati jonathan stop per un benissimo il tiro poi la fuori corvi la tiene lì non era facile punto a fischiare per tre volte ma mattioli ancora fiato per andare mattioli inesauribile ha giocato 60 minuti petronelli per mattioli mattioli col destro sull'esterno della rete bene govoni eccolo govoni dai bastian govoni mezzo a due se ne va govoni inesauribile sono giù attenzione rigore rigore parma grande bastian bastian govoni mezzo a due mattioli è pronto mattioli spiazza chirurgico 2 a 0 mattioli gioco partita incontro finisce qui il parma vince anche il derby contro la reggiana 2 a 0 straordinari i nostri 2001 vincono anche questa partita 19 vittorie un pareggio uno schiaccia sassi il gruppo di marcello melli che vince anche questa partita 2 a 0 una bella gara onore anche i ragazzi della reggiana che hanno lottato con grande ardore fino all'ultimo il parma però vince 2 a 0 il derby l'ultima gara sarà settimana prossima comunque vada però è stato un grande campionato felici di avervi raccontato questa vittoria grazie